Si può dire che questo sarà l'anno per l'ASL di Pescara delle assunzioni? Sicuramente sì, ovviamente le assunzioni sono oggetto di pianificazione, ma quest'anno, come i due anni precedenti, sono caratterizzati da un impatto emergenziale di tutto rispetto. Diciamo che la pandemia in questi due anni ha portato una fortissima pressione sugli uffici di questa azienda, in particolare sull'ufficio personale. Ovviamente la pandemia non poteva che essere gestita a livello emergenziale con rapporti di lavoro flessibile. Voglio dare dei numeri, diciamo, anche che danno il senso dell'impatto che ha avuto questo fenomeno sull'ASL di Pescara. Noi nel 2020 abbiamo stipulato 434 rapporti di lavoro flessibile tra medici e infermieri e nel 2021 ben 496 rapporti di lavoro flessibile. Ovviamente si tratta di contratti prevalentemente di persone del comparto. Diciamo che nel 2020 i medici sono stati 134, il resto era persone all'infermieristico. Nel 2022 cosa succederà? Nel 2022, anzi, è storia di questi giorni che la positivizzazione del personale è un altro, diciamo, problema da gestire. Noi abbiamo attualmente circa 94 positivi, fenomeno che si è aggiunto a quello delle sospensioni dal servizio perché, come sapete, il personale del ruolo sanitario non può esercitare la professione se non si è vaccinato e quindi abbiamo anche 34 sospesi. Per cui ancora una volta, pressione su pressione, è di questi giorni un provvedimento per reclutare un'altra trentina di infermieri. Noi li chiamiamo con una velocità anche consistente, dando poco margine per rispondere. Gli diamo cinque giorni di tempo, è chiaro che molti non accettano. Siamo arrivati a fare 500 chiamate, quindi la graduatoria praticamente la scorriamo con la massima velocità. Comunque diciamo che una ventina di unità le stiamo reclutando, gradualmente ne prenderemo un'altra decina. Per cui anche questo ultimo problema, oramai siamo avvezzi alle azioni emergenziali, quindi riusciremo a gestire anche questo fenomeno. Anche perché nei giorni scorsi ci sono state proprio delle criticità dovute alla mancanza del personale, sia in pronto soccorso che in ospedale? Eh sì, questo sì, però noi adesso abbiamo le spalle forti, abbiamo la capacità di reagire.